Buonasera mister I rimpianti maggiori per questa retrocessione nascono nel campionato o in questo doppio confronto dei play-out? Non ho capito, scusa I rimpianti maggiori nascono dal finale di campionato? Quei pareggi con Martina, Cosenza, quel pareggio a Catanzaro o nel doppio confronto in cui siamo riusciti solamente a fare due tiri in porta in due partite? Intanto noi avevamo raggiunto la migliore posizione di classifica nella griglia play-out, questo ci faceva ben sperare Poi le vicende che conoscete tutti ci hanno portato a vivere un play-out particolare in cui gli episodi hanno fatto la differenza Noi nella partita d'andata non avevamo avuto il miglior approccio, non c'è dubbio Tuttavia era una partita equilibrata dove è stata sbloccata da un contropiede che ingenuamente avevamo preso Paradossalmente in una partita in trasferta dove avevamo dei vantaggi ovvi Abbiamo preso un contropiede Questo è il primo episodio di ingenuità, per carità Nella partita di ritorno invece la squadra è scesa in campo col piglio giusto Non significa niente, abbiamo avuto delle difficoltà Sono due intanto, perché c'è il tiro di Benvenga nell'area di rigore e il tiro di Orlando ben parato da Belardi Nel specchio della porta? Ma che puntualizzazione è questa qua? Un tiro in porta può essere anche fuori Un tiro nello specchio della porta è uno fuori dallo specchio della porta Dopodiché loro non hanno fatto niente Non hanno fatto una ripartenza Devo dire tra parentesi anche perché erano in inferiorità numerica poi il secondo tempo ma neanche il primo In qualche occasione siamo stati un po' in pericolo ma comunque i nostri difensori hanno neutralizzato sempre le loro ripartenze Che erano una preoccupazione alla vigilia della gara e poi un episodio ancora di ingenuità al loro favore come quella punizione dove noi eravamo schierati Dove non si doveva neanche fare perché l'avversario era girato di spalle Ma per il resto sono due partite equilibratissime dove gli episodi hanno fatto la differenza Dove nella prima dei 180 minuti loro erano più tonici E dove nella seconda noi abbiamo fatto di più ma abbiamo trovato di fronte una squadra ben schierata In fase difensiva ottimamente predisposta molto attenta che ci ha concesso pochissimo e questo va al loro merito Però se parliamo complessivamente di gioco noi la prima mezz'ora abbiamo fatto un ottimo gioco Il secondo tempo abbiamo provato a girare prima di fare questi lanci lunghi Dopodiché parliamo di cuore perché qualcuno dice il cuore magari, già lo so, noi vi anticipo la domanda Se il cuore significa avere dieci occasioni da gol, il cuore non c'è stato Sono stati bravi loro in difesa, si sono chiusi lì e ci hanno concesso pochissimo Ne abbiamo avute due di occasioni nette Più una, poteva esserci un retro, qualcosa in più Ma se il cuore è altro è quello di arrivare sempre nei contrasti Cercare di arrivare prima Di dare l'anima non solamente in fase offensiva ma anche in fase difensiva Non prendendo i contropiedi di cui prima Perché altrimenti saremmo stati dei polli La squadra ci ha messo il cuore Poi c'è tanta amarezza Non c'è dubbio Nessuno vuole Resumersi dalle responsabilità Ma se parliamo di regina che ha meritato nettamente Non è così da parte mia Perché è stato due partite Sono state due partite equilibrate Dove loro sono stati bravi a sfruttare un contropiede E dove nella partita di ritorno hanno fatto la loro partita Per carità Chiusi lì dietro Aspettando un episodio Che gli è capitato al loro vantaggio E dove noi non siamo riusciti a creare tante palle gol Ma quelle due che abbiamo avuto Potevano andare a buon fine Tra l'altro eravamo sullo 0-0 Che tipo di amarezza è per lei dal punto di vista personale Visto che era venuta a Messina con tanto entusiasmo Forse anche per chiudere quel cerchio del 2008 Quando poi era andato via forzatamente di fatto Certo Eravamo riusciti a ottenere una grande salvezza Sette giornate alla fine con mille problemi In Serie B Naturalmente ero convinto Che ci saremmo riusciti anche adesso Purtroppo Il destino ci ha riservato un brutto scherzo Io in 23 anni Di attività da allenatore Dalla prima categoria alla Serie B È la prima volta che retrocedo Questa retrocessione vale Non due ma molte più volte Per ovvi motivi Ci tenevo particolarmente Poi mi dispiace per questo straordinario pubblico Questa tifoseria che avrebbe meritato ben altro Però non mi sento di Rimproverare nulla ai giocatori Perché certo Potevamo avere 10 occasioni da gol Sarebbe stato auspicabile E anche logico Perché soprattutto in superiorità numerica Uno si aspetta che si creino tante palle gol Ma loro sono stati onestamente bravissimi In fase difensiva E qualche episodio Che non ci è stato favorevole Magari avrebbe fatto pendere L'ago della bilancia dalla nostra parte Come il tiro di Benvenga Onestamente Perché il secondo Quello di Orlando Per carità È stata una grande parata di Belardi Ma quello di Benvenga Che tira molto bene Di solito Purtroppo non è andata a buon fine Ma per il resto Cioè la squadra Ci ha cercato di dare Quello che può Quello che può Per loro stessi E per la Per la tifoseria E purtroppo Non ci siamo riusciti Quando parliamo di cuore Magari parliamo anche di Damonte Che ieri si è fratturato la caviglia E quindi è venuto comunque in panchina E se ci fosse stata la necessità Con un'infiltrazione Sarebbe entrata E quindi nel finale Abbiamo buttato dentro Ma con una caviglia Ma con un pallone Con una frattura E Nigro Che ha giocato con uno stiramento Che anche lì Il nostro staff medico Incomiabile È riuscito A metterli in campo Però a tre quarti di partita Ce la faceva più Perché cominciava a sentire dolore E queste sono cose da cuore Cioè non è il cuore Quando hai tante occasioni da gol Punto Cioè i numeri sono i numeri Poi c'è anche altro Infatti mister Buonasera Nessuno colpevolizza lei O colpevolizza questo gruppo Perché Credo che più di questo Questi calciatori Purtroppo non potevano dare Perché evidentemente Questi calciatori meritano E prima il quinto Ultimo posto in classifica È adesso Questa retrocessione Ma più che altro Credo Per limiti loro Non solo tecnici Ma soprattutto Mentali Non lo voglio usare Come capo espiatorio Ma faccio soltanto Un nome Che è quello di Nicola Sizzillo Che ha giocato Quaranta partite In Sette Otto ruoli diversi E a vent'anni Forse neanche lui Ci ha capito Ci ha capito niente Quest'anno E come lui Tanti altri Hai nominato Un ragazzo del 94 Che secondo me C'ha un avvenire Perché è un giocatore Dinamico Eclettico Duttile Che può Giocare in diversi ruoli Io ricordo Quando ha fatto Il trequartista Soprattutto ad Aversa Che è stato Il valore aggiunto C'era il numero 7 In quell'occasione Tutti i giornalisti Lì dicevano Ma chi è quel numero 7 Aveva fatto una grande partita Poi Centrocampo Qualche volta Come nella partita D'andata Come peraltro Tutto il resto Della squadra Era un po' sottotono Ma oggi Lì davanti alla difesa Quando abbiamo cercato Di creare Qualche alternativa Al nostro Prevedibile gioco Che sulle fasce Avrebbe faticato A sfondare Con il trequartista Lui davanti alla difesa Comunque Ha lavorato bene Forse ha sbagliato Un passaggio Allora Qualcuno può Storcere il naso Però complessivamente È stato sempre pronto A fare filtro E anche Ad appoggiare La manovra Cioè È un ragazzo del 94 E poi Non c'era neanche Bortoli per infortunio Abbiamo detto Di Damonte Che Ci aveva Una Una palla Al posto della caviglia Per la frattura Che avrebbe dovuto Mettere il gesso Ieri pomeriggio Non gliel'hanno messo Per essere comunque A disposizione In qualche modo Ad oggi Messina Doveva essere Il suo trampolino Di lancio In realtà Si è trasformato In una Rilancio In una scommersa Persa Che ne sarà Del suo futuro Io adesso Mi leccherò Le ferite Cioè Veramente Per me Il pallone Oggi È triste Per me dirlo Ma Mi ha dato Mi ha Mi ha fatto Uno sgambetto Troppo grande Ma Per me stesso Ma perché Sentire Il calore Della gente Anche ieri sera Che sono venuti Tutti Fuori Allo stadio Così A incoraggiare La squadra Era Una Una salvezza Da dedicare A loro E E Quindi C'è Un'amarezza Grandissima Cioè Io non so Ma non Ci penso proprio Al futuro Per me Può anche finire Qui il calcio Per quanto mi riguarda Poi Se un domani Io mi diverto Ad allenare Cioè Devo dire Che non Abbiamo avuto Tante difficoltà Per esempio Oggi avremmo potuto Giocare sulle fasce Abbiamo trovato Cercato altre soluzioni Che non sono quelle Che io Prediligo Chiaro Quindi Ma al di là Di questi Dettagli Tattici Di caratteristiche Dei giocatori Che mi Fanno divertire Nel mio lavoro Allenandoli O meno Perché Questo è un bel gruppo Che io sono stato contento E ho avuto piacere Ad allenarlo Ma perché Mi hanno sempre seguito Però Diciamo Rispetto alle caratteristiche Tecnico-tattiche Io Avrei Preferito Giocatori Più esterni Che attaccano Sulle fasce Quindi un domani Se dovessi riprendere Ad allenare Voglio sperare Che Che ci sia Un gruppo del genere Come applicazione Perché abbiamo fatto Delle partite Sull'applicazione Su Tenere la squadra Compatta Però magari Con Con delle caratteristiche Più offensive Dal mio punto di vista Ma Sinceramente È tanta l'amarezza Che se non mi chiama nessuno E rimango fermo Oramai Per tutta la vita Non Che dopo Oggi È stata una giornata Che il destino Ci ha riservato Proprio Una cosa Che non Non meritavamo Perché non meritava La società Devo dire Perché alla fine Ci ha messo in condizione Di fare Tutto quello Che era possibile fare Non meritavano I giocatori Non meritava La tifoseria E anche io Con il mio staff Con i collaboratori 24 ore su 24 Abbiamo lavorato E sinceramente Non Non si meritava Poi Degli episodi Sono stati a favore Degli avversari E adesso Ci dobbiamo solo Leccare le ferite Complimenti Per la sua signorità Grazie 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 a tutti.